Hai servito le case nobili per troppo tempo, o hai finalmente deciso di provare a fuggire? Cosa succederà dopo? Sarà scritto negli annali del grande pilastro terminale. Benvenuti a tutti, bentornati su Indie Gameplay. Oggi siamo su Naughty Crawl 20.000 atmosfere. È un gioco sviluppato da un italiano, è un gioco che è in italiano, per chi di voi si lamenta sempre della lingua, e soprattutto è un gioco veramente di nicchia. Questo non significa che sia brutto, anzi, questo è un gioco che potrebbe piacermi anche molto. Ho preferito non provarlo troppo, perché credo sia bello scoprirlo insieme, perché alla fine è una sorta di grande puzzle. Nel senso che noi ci troviamo su questo pianeta, che non è meglio definito, nel senso che qua abbiamo delle condizioni esterne, aria tossica, radiazioni alte, pressione di 20.000 atmosfere, supporto vitale fuori uso, e il Naughty Crawl non è sostenibile. Noi stiamo fuggendo, abbiamo servito questi tizi e vogliamo fuggire. E tanti come noi lo stanno facendo, e tanti come noi si sono impossessati di questo mezzo, che non ho ben capito se è un pallone aerostatico o un sottomarino, insomma non si capisce perché l'ambientazione è molto fumosa, diciamo, non fumosa, diciamo criptica, ecco, è un termine giusto. Infatti noi avremo solo degli schermi, avremo solo delle leve da tirare, dovremo capire come sopravvivere, ed è un gioco difficile. Lo dicono anche gli sviluppatori, il gioco lo trovate su Steam, costa 12,49€, poi a volte lo trovate scontato, tipo adesso 11€ qualcosa, 11,20€ forse. E lo dicono gli sviluppatori, cioè dicono, voi morirete, è ovvio, succederà, però ogni volta che morirete avete appreso cose nuove. E infatti quello che io ho appreso alla mia prima partita è che il motore, una volta che si spegne, perché non ha più batteria, non si riaccende più. Quindi bisogna fare attenzione. Allora, tutto quello che abbiamo davanti è questo. Questa è la leva che attiva il motore e qui abbiamo il livello dell'energia. Quindi in questo caso noi andiamo ad accendere, vedete che l'energia parte. Dobbiamo capire che cosa dobbiamo fare, quindi possiamo andare ad accendere i vari schermi, vedete che stiamo accendendo adesso i vari indicatori. E la batteria intanto inizia a scendere, quindi bisogna essere... Ok, avviamento motore consigliato, bisogna avviare il motore, ma io onestamente non so come si avvia il motore. Eccolo qua. Ok, perfetto. Allora, errore araldica non trovata. Up sis menu, down sis menu, return sinistra, destra. Ok, ci stiamo muovendo, infatti vedete che abbiamo già iniziato, oh, ho già appreso diverse cose. Vorrei capire, attenzione, motore è spento, batteria non in carica. Ok, accensione motore, motore avviato, comandi, esplorazione, perfetto, batteria connessa al motore. Quindi dovremmo stare relativamente tranquilli. Qua infatti vedete c'è una cosa che possiamo aprire e questo porta alla fine della partita, diciamo è l'espulsione da questo mezzo. Quindi moriamo e finisce lì la partita, insomma. Però abbiamo appreso nuove cose. Tutto quello che indicano queste cose non ne abbiamo idea. Batteria connessa al motore, passaggio al serbatoio carburante 2. Ah ok, abbiamo capito che abbiamo due serbatoi di carburante, uno e due. Stiamo usando il serbatoio principale, al momento facciamo così. Qua abbiamo un sonar e quello che faremo adesso è scoprire cosa sono le varie cose. Cercando di scoprire il più possibile, ecco qua, rilevatore acceso. Ok, abbiamo acceso un rilevatore. Tanto teniamo sempre d'occhio la batteria perché... Allora, torre dei cristalli. Lavoratori, torre dei cristalli. Ok, questo è un rilevatore. Poi vediamo cosa c'è qua. Matrice di nodi non in fase di accumulo. Matrice? Che cacchio è? Si può aprire? No. Ok, qua abbiamo acceso il nethook, che non so cosa sia. Nessun aggancio il nethook. Oh ok, ok, qua possiamo agganciarci a qualcosa. Un po' alla... Come in altri giochi che abbiamo visto di qui, non ricordo però il nome. Di qua abbiamo un altro schermo. Eh cazzo, la batteria sta scendendo però eh. Menu principale, indietro, deposito, note, appunti di campo. Niente, note, vuoto, deposito... Eh, scusate, deposito, sale, zero, libere. Perfetto, no, direi che lo possiamo spegnere. Tanto io non capisco cosa siano questi indicatori. Cristallo non montato. Eh, modulo zeppelin disattivato. Ah, potremmo anche volare dopo. E modulo zeppelin... No, cristallo non montato. Ok, niente, niente da fare. Non stiamo... No, ok, forse adesso sì, stiamo caricando la batteria. Mi chiedo ancora, che cosa sia questo? Calore motore rilasciato. Ah, ok. Eh, mi chiedo questo? Campo occultamento 0%. Ah, ok, qua ci occultiamo e andiamo a consumare però, vedete, batteria. Bene, abbiamo iniziato a capire un pochino come funziona. E qua ci sono due leve che sono, credo... Vedete che qua ci stiamo muovendo. Cioè, stiamo ruotando su noi stessi. E credo che poi con queste leve qui si diana... Una sorta di... Potenza motore 22%. Ah, ok, se io aumento la potenza... Ok, consumiamo carburante ma probabilmente metteremo in carica le batterie. Questo cos'è? Iniezione carburante. Ah, stiamo immettendo carburante nel motore. Ma ci stiamo muovendo? Se io spengo il motore... Ok. No, io prima ho visto qua che stava salendo l'iniezione di carburante, quindi pensavo che... Mettiamo su potenza motore. La mettiamo al 59%. Stiamo iniettendo il carburante. Vorrei anche capire come andare avanti. Ah, ok, ok, così. Perfetto. Ah, è questa leva. Ok, questa leva qui ci permette di andare avanti. Cos'è quello? Livello calore troppo alto. Rilasciare il calore del motore. Perfetto. Spettacolo. Allora, vediamo che cos'è quello. Allora, ci mettiamo a portata di uncino. E vediamo, dov'è l'uncino qua? Nessuno aggancio network nelle vicinanze. Ok, niente, spegniamo. Cos'è questo? Vediamo un po'. Occultamento 0. Carica prevista 1. No, no, stiamo andando alla grande. Stiamo... Madonna mia! Quanto carburante abbiamo consumato? Mannaggia, no, 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 no. Diminuisci. Iniezione carburante è l'11%. Andiamo avanti molto più piano. Scarica ancora il motore. Vai. Eh, sì. Piacerebbe. Pressione del motore è bassa. Ok, dobbiamo aumentare la potenza. Vediamo se possiamo andare, ok. Andiamo un po' a scatti adesso, perché non abbiamo abbastanza carburante. Eh, no, dobbiamo assolutamente capire come sopravvivere. Quindi tutto al massimo. Attenzione, serbatoio 1. Arresto il motore imminente. Cambia. Ok. Ci siamo agganciati al serbatoio 2. Livello calore è un po' alto. Sgancia. Niente, ragazzi. Voi avrete già intuito che si inizia già in modo difficile e andremo probabilmente a morire. Cos'è questo? Oh! Cos'è? Non so cos'era. No, è che vorrei capire che cacchio è questo. Ok, no, l'ho spento, ok? No, eh, volevo capire cos'è sto coso qua, perché... Niente, eh, abbiamo finito il carburante. Sì, sì, ma non c'è bisogno di... Eh, vedete che c'è questo simbolo qui del cancelletto. Vorrei capire... Network non caricato. Carica. Vediamo se possiamo. Network proiettato. Ok, network occupato. Sgancia. Accesso deposito. Mostra registri recenti. No, accesso deposito. Rifornimento carburante. Ok. Eh... Ok. Batteria. Rigenera ioni batteria. No, io vorrei... Accesso deposito. Rifornimento carburante. Riempie il serbatorio. Riempie il serbatorio. Eh, il problema è che... Mostra registri. Segnalata unità nautical senza stemma, base... Ok, qua vedete che poi possiamo andare a leggere tutto. Apri cancello. Ah, abbiamo aperto un cancello. Perfetto. Il problema è... Il problema è che... Riempie il serbatorio. Riempie il serbatorio. Usa. Serbatorio 2 riempito. Ok. Ok. Vorrei riempire però il serbatorio 1. Rifornimento carburante. Usa. Non mi riempie il serbatorio 1. Carburante attivo. Usa. Ok. Abbiamo riempito anche il serbatorio 1. E direi che possiamo sganciarci. Abbiamo... Io vi dico onestamente... Abbiamo fatto... Meglio di quello che pensavo. Ma... A mani basse, eh. Perché... Oh, 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 oh. Scarica, scarica, scarica. Ci ha visto? Obiettivo fissato. Cos'è? Torretta 1. Possiamo usare... No? Mi scusi, eh. E noi... Andiamo via in tempi brevi. Eeeh... Oppa. Ci hanno visto... Continuano a vederci le tolrette. E ci sparano, tra l'altro. Probabilmente sono io nella concitazione che... Non me ne rendo conto. Ma ci stanno sparando. E io mi dimentico sempre di scaricare il carburante. Ah, ok. Serbatorio 2. Ah, no? Ok. Serbatorio 2. Carburante è finito. Motore è spento. Stiamo andando avanti con le batterie. Merda, dovevo usare l'occultamento. Ecco. Allora, questa spia qui probabilmente è il... Qua la mancanza di carburante. Questo non so che cosa voglio dire. Però io premo sto tasto e non so che cosa succeda. Batteria connessa al motore. Ah, ok. Cioè, in pratica ci muoviamo con le batterie? No. No, perché non ce la facciamo. E a breve... E a breve tutto si spegnerà. Ragazzi. È stato bello. Ho letto con piacere. Vedete, è deceduto. Causa, espulsione registrata. Ioni e batterie esauriti. Nuovo segnale di recupero. In pratica ci siamo buttati fuori. E questi nobili, questi... Queste elite, diciamo, ha beccato il nostro corpo, il nostro cadavere. E ha scritto questo foglio dicendo Ne abbiamo beccato un altro che stava tentando di fuggire. La cosa che mi è piaciuta molto, che hanno scritto gli sviluppatori, vedevo sulle conversazioni Steam, che questo gioco è facilmente, diciamo, aggiornabile, insomma. Quindi, sarebbe bello appunto vederlo crescere, per quanto io non so quanto effettivamente duri l'avventura, però siamo riusciti bene o male a padroneggiare le prime cose. Il gioco andrà sicuramente approfondito, ma per un gioco del genere preferisco fare un video abbastanza breve, in modo che vi ho mostrato un pochino quello che ha da offrire, almeno all'inizio, perché poi sicuramente si farà tutto molto più survival, molto più complicato. Ho apprezzato molto questo esplorare, questo scoprire le varie cose. Quindi, ragazzi, fatemi sapere. Io poi invito anche gli sviluppatori, qualora vedessero questo video, li invito a commentare qua sotto, nel caso abbia fatto qualche sciocchezza. Alla prossima, ragazzi. Fatemi sapere, non mancate come al solito, e ciao ciao!